895 44 27 e questo il numero verde per le vaccinazioni a disposizione dei cittadini iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'ordine dei medici di napoli e provincia e l'as napoli 3 sud si forniscono riscontri acquisiti di natura strettamente medico scientifica sulla campagna vaccinale covid 19 secondo le indicazioni del ministero della salute dell'istituto superiore di sanità dell'aifa e dell'ema il servizio supporto della cittadinanza è attivo dalle 9 alle 14 da lunedì al venerdì per informazioni invece sui punti vaccinali è possibile chiamare al numero 081 36 33 169 è la vera dimensione del giuramento ippocratico spiega il presidente dell'ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di napoli bruno zuccarelli un gruppo di medici in pensione impegnato gratuitamente a rispondere in modo puntuale da lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 a tutti i quesiti dei cittadini in merito alla vaccinazione la collaborazione con l'as napoli 3 sud di cui sono orgoglioso è fondamentale